Ciao ragazzi e benvenuti finalmente in una nuova video recensione sul canale Questa cosa ragazzi è la prima volta che in una video recensione Oddio se vogliamo contare anche questa qua che vi lascio ovviamente qua sopra nelle schede 6-6 e mezzo darei appunto a quel video là Nonostante sia appunto uno tra i primi video del canale quindi uno tra i meno recenti Sì effettivamente ho un po' il dover di dare una piccola critica a me e ai miei vecchi progetti Vabbè comunque la prima video recensione che appunto ho portato perlomeno in webcam È stata appunto quella là di Ricercato di Junior Kelly che è stato uno tra i miei album preferiti appunto di quell'anno Ma adesso ragazzi noi in questa retro review che appunto questa qua sarà una sorta di serie che andrà avanti per un bel po' di giorni E si spera anche per un bel po' di mesi dato che ho tante cose da dire su tanti altri progetti che possono essere O album o singoli o magari collaborazioni con altri artisti, mixtape eccetera eccetera Ma oggi ragazzi noi ci concentreremo su una traccia in particolare Che ha debuttato se così possiamo dire quest'artista chiamato Knight Che il suo vero nome è William Mezzanotte E la traccia in questione si chiama appunto Gli occhi della tigre Rilasciato appunto entro se non sbaglio l'estate del 2018 Quando è uscito la prima volta ma ancora oggi sta creando tantissime discussioni all'interno della scena rap italiana e non Soprattutto per molti dissing presenti al suo interno Si sono state rivolte anche critiche del tipo che non devi basarti sulla carriera di altri personaggi Quindi a suo tempo non soltanto dare una critica a lui anche per dare un po' la critica a quello che è il dissing in generale Per quanto riguarda il dissing ragazzi farò un video a parte non sulla serie retro review Però su una recensione in generale riguardo i dissing e soprattutto che cosa ne penso e se sono stati utili per la scena Ovviamente ragazzi il testo lo trovate su Genius Riescio sotto in descrizione ragazzi direttamente il testo E ragazzi in realtà si parte direttamente con la seconda strofa Inizia dicendo Ho sentito l'ultimo pezzo di LOL e l'altro quanto mi fa schifo Non che LOL gli fa schifo tanto che in realtà lui ci ha anche collaborato Quindi ci sta effettivamente che non è che lui non gli piace LOL Semplicemente non gli è piaciuto il pezzo che sinceramente neanche a me è piaciuto così tanto Vabbè ovviamente parlo io che sono anche hater di LOL Cioè lo dico sinceramente È fatto appunto da LOL con Riki chiamato sbagliato Che è stato criticato poi alla fine Ma non è che sia proprio stato criticato in maniera costruttiva Semplicemente è stato dissato appunto da Night in questa traccia qua Ma anche criticato sia in maniera costruttiva Anche un po' ironica anche dalla community Che era sempre stata diciamo abituata a un po' LOL Appunto poeta incazzato Che è anche questo il motivo Per cui è conosciuto LOL per tracce tipo Ulisse Con storyline indietro Con messaggi dietro Che effettivamente rende effettivamente quello che è LOL Ovvero una sorta di poeta incazzato Una sorta Ok adesso io dico questa cosa Una sorta di Eminem tarocco Ok perché Eminem non si può niente paragonare a LOL E se per questo LOL neanche si può paragonare a Eminem Perché ovviamente quando si mischia un po' testo d'amore e rap C'è sempre un po' quella critica del tipo Che non è più rap e pop Ma pop ragazzi Nonostante appunto Il pezzo non è che mi sia piaciuto così tanto Pop non è soltanto una questione di argomenti più che altro Una questione di musicalità E nonostante nel ritornello ci siano appunto Tutte queste influenze del rap Ma al suo tempo anche di pop Dovuto ovviamente al featuring Che in realtà non è proprio un artista italiano È un artista appunto che proviene da Da oltreoceano Tra l'altro ho conosciutissimo Ricky per aver fatto Uno tra i pezzi estivi più ascoltati Nei ultimi cinque anni Che appunto Polaroid se non sbaglio Uscito nell'estate del 2019 se non erro O 2018 Non mi ricordo Quando scrivo penso a quello che ha vinto Sanremo Poi mi manca Primo E questa ragazzi è tosta Cioè perlomeno per me Che sono un grandissimo fan di questo genere E che ho una vastissima conoscenza Ricordo sia genere E sia gli artisti in sé Si tratta praticamente di Primo ragazzi Primo Brown E il Primero Primo come lo volete chiamare Uno tra i membri dei Corveleno Peccato che Qualche anno fa ci ha lasciato Perché era un grandissimo artista Che tra l'altro È stato anche di tantissima ispirazione Per quanto riguarda l'artista Appunto di cui stiamo parlando in questo video Che hanno fatto anche un pezzo insieme Nel primo album di debutto di Night Che si chiama Night One E quando dice Penso a quello che ha vinto Sanremo Poi mi manca Primo È praticamente un gioco di parole Per dire un po' qual è appunto il contrario Della parola Primo Che è appunto Ultimo Infatti se non sei Primo sei Ultimo È appunto È un po' da questa traccia Se possiamo dire Che è stato un po' fatto Il gioco di parole Del A Ride bene Chi ride Ultimo E che non fa ridere per un cazzo Però ho dettagli E dato che Come ho detto prima È stata Che ha tanta tantissima attenzione Verso Sia la community Del rap italiano E non E quindi che è stato ascoltato Magari da alcuni fan di Ricky O magari da alcuni fan di Ultimo È stato Ok Geniale Mettere un po' di cultura Di alcuni artisti Passati del rap italiano Cazzo te devo di Cazzo te devo di Sento una traccia di questo qui Dice quello che ha detto Già quello lì Passa di lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Ci trovi sempre su questa wave Con tu madre tu pada Facci i bocchini State zitti Si tratta praticamente Che si scambiano Che si scambiano Ritornello E oltre a Che ne so Prendere un po' per il culo Dicendo martedì Mercoledì Giovedì È praticamente Sempre del ritornello Ma di preciso La parte in cui dice Puoi trovarmi lunedì Martedì Mercoledì Giovedì E venerdì Sempre su la stessa wave Per poi Continuando con Tu madre tu pada Facci i bocchini State zitti Fantastico E credo sia un po' Una tra le classiche cose Per esempio Che ne so Prendiamo che ne so Una giornata scolastica Dove c'è Il bullo Di torno Dove ripete sempre Quello che dici tu E Ripeto Sentendo ovviamente Il bullo che ripete Una tra le tue classiche Frasi Che Probabilmente Colui che la sente E allo stesso tempo La dice per primo Gli possa suonare Che ne so Una frase detta In maniera giusta Ma poi alla fine Quando la risente Però dal tono vocale Di un altro Può sembrare Che ne so Fastidioso Quindi Ci stava anche un po' Questa cosa qua Di non solo citare Però Allo stesso tempo Anche un po' Copiare Con le tue corde vocali Per poi far sentire All'artista originale Effettivamente Quanto suona brutto E soprattutto Che io penso Che suoni brutto Adesso Qui Piccolo stop Dato che non si parla Di un dissim In particolare Però Si parla Più che altro Di un gioco di parole Che sta spopolando Un po' Su Instagram Ma anche Nel mondo della musica In generale Non soltanto nel rap Adesso vi faccio vedere Di preciso quale Pagano le rime Vagano le mine Mi taggano Fanno le carine Pagano le rime Vagano le mine Secondo me È un modo per dire Che Ci sono molti artisti Nel momento Magari artisti Che sono praticamente Da tanti anni All'interno Della scena musicale Non solo rap italiana Ma Proprio all'interno Della musica in generale Appunto Come ho detto prima Che appunto Non ce la fanno più a scrivere Non trovano l'ispirazione Hanno il blocco Dello scrittore E quindi Che pagano Un ghost writer Ma questo succede Non soltanto Nel mondo Del writing Ma anche nel mondo Della produzione musicale Che si paga Un ghost producer Che poi alla fine Quando la traccia Viene effettivamente Rilasciata Nonostante abbia effettivamente Ok il pensiero Ragazzi Di quello che è scritto È quello Dell'artista Che poi appunto Rilascerà questo disco Però È scritto Con una metrica Che non è originariamente Sua Quindi si Esce una mina Addirittura Neanche 5 minuti Dalla pubblicazione Origine del brano Però alla fine I credit Devono essere Rilasciati effettivamente A colui che Veramente Ha scritto il brano Ok ci sono artisti Che effettivamente Sono onesti E dicono Che non l'ho scritta io Ma ci sono persone Che non lo fanno E poi con Mi taggano Fanno le carine Secondo me È anche un po' Un modo per Prendere per il culo Ciò che Succede nei propri L'isram delle ragazze E anche delle ragazzine Piccoline In cui addirittura Nel loro post Che insomma Magari fanno vedere Che per cena Stanno mangiando I broccoli Con gli asparagi E poi sotto Fanno papiri Per De Però Citare Praticamente Un brano di Night E io dico Che cosa c'entra I broccoli Con Night Bene Dopo questa Video review Ragazzi direi che Per oggi È più che tutto Fatemi sapere sotto Nei commenti Quale sarà Il prossimo progetto Che possesse Il singolo Album Mixtape Di un determinato Artista E noi ci vediamo Alla prossima Ciao